Dottor Tufrelli, allora, segretario generale del CNEL, recente nomina, CNEL che studia proprio le politiche del lavoro. Ecco, l'Italia ha bisogno di un'altra politica del lavoro. L'Italia ha bisogno anche di istituti nuovi, perché le esigenze del lavoro sono cambiate, perché il momento è complesso, anche per le nuove sfide, anche le sfide connesse al PNR, anche le sfide connesse alla transizione energetica, anche le sfide connesse alla transizione digitale. Quindi evidentemente questo comporta un adeguamento dell'intero sistema, quindi anche nuovi istituti e nuove politiche, ma soprattutto un grandissimo raccordo con tutto quello che è il mondo della formazione e il mondo dell'accademia. Ecco, proprio su questo tema esiste un grande mismatch nel mondo del lavoro, specialmente per determinate competenze legate al futuro. Il 40% delle figure professionali in prospettiva non ci sono. Su questo tema come si sta operando? Sì, il dato preoccupante è che il 40% appunto non ci sono e nel 2019 questo dato era il 29%, quindi evidentemente si è alzato in una maniera molto sensibile e quindi evidentemente bisogna, tra virgolette, correre ai pari proprio con quello che dicevo, cioè con un coordinamento molto ampio che questa formazione la dà e anche lavorando su quelli che in questo momento sono occupati, che evidentemente vanno formati, perché soprattutto per quanto riguarda le competenze di carattere elevato, quindi non quelle di carattere medio, è probabilmente meglio lavorare su quelli che in questo momento già stanno lavorando e hanno magari una competenza media in una determinata materia. Ecco, su questo argomento nel mondo del trasporto e della logistica in determinati settori le percentuali sono addirittura più gravi, bisogna avere delle risposte immediate, c'è la possibilità di dover assumere, diciamo, personale straniero in tal senso? Beh, questa è una sicuramente delle ipotesi che sono allo studio, perché da questo punto di vista noi siamo in un mercato ampio, in un mercato sicuramente europeo, quindi da questo punto di vista è una cosa su cui abbiamo lavorato da tempo, bisogna studiare quali sono esattamente appunto le necessità e poi ci sono preclusioni ad ampliare la raggio del suono evidentemente della situazione, già lo si fa comunque con una certa tranquillità, noi siamo tra l'altro la sede di una serie di multinazionali che già impiegano, io stesso ho fatto il direttore generale di una multinazionale da italiano non più di una quindicina di anni fa.